Nessun allarme sui conti della sanità abruzzese ma anzi certificazione dal tavolo di monitoraggio di un miglioramento generale dei livelli di assistenza con il giudizio positivo espresso anche dall'agenzia Moody's. Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Punto numero uno parlo di obiettivi di salute. Se uno prendesse il tavolo del 2014, il tavolo del 2014 recitava inadempiente sui livelli essenziali di assistenza del 2011 e del 2012 con l'elenco delle criticità sugli obiettivi di salute a partire dalla prevenzione e dagli screening del tumore. Per quanto invece ci riguarda nel 2018 il monitoraggio e dunque il ministero scrive miglioramenti su tutti i profili dell'assistenza e ovviamente larga adempienza perché siamo molto oltre la soglia del cosiddetto punteggio di 160. Poi ci sono gli altri aspetti relativi alle questioni dei conti dove la contestazione non riguarda il conto economico del 2017 ma riguardano al contrario una serie di partite degli anni 2007-2013 che tutto hanno a che vedere tranne con la legislatura 2014-2018. Moody's mette insieme le due cose e certifica che si è speso qualcosina in più, i conti sono sotto stretto controllo ma si è speso per migliorare la qualità dell'assistenza che è l'obiettivo penso di un governo di centro-sinistra o di sinistra. Giudizio invece negativo arriva dal centro-destra che parla di numeri fortemente negativi e di dati preoccupanti come hanno spiegato i consiglieri Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri riferendosi ai dati ministeriali del 2017. Non lo dice Mauro Febbo, non lo dice Forza Italia, purtroppo lo attesta un verbale del ministero che dice che è così, non torna in termini sanitari, non torna in termini economici. Ed è grave ampe due le cose, non torna in termini sanitari perché ciò che ci era stato detto e annunciato come l'ospedale di aree desilaggiate di Atessa non vi è traccia sul verbale, non vi è traccia dei 5 ospedali nuovi che bisognava realizzare a Lanciano, Vasto, Avezzano, Giulianova. Non vi è traccia del punto nascita di Sulmona, non vi è traccia soprattutto del DEA di secondo livello che è un'eccellenza per questa regione che si doveva realizzare l'integrazione tra gli ospedali di Chieti e di Pescara. Purtroppo i dati economici, vuol dire far tornare nuovamente indietro la regione Abruzzo, danno risultati diversi da quelli che vengono enunciati. Qualche mese fa avevo detto che i bilanci della Alza regionale chiudeva con un deficit di 80 milioni, qualcuno mi aveva smentito dicendo che il deficit era di soli 9 milioni, oggi il Ministero certifica che purtroppo il deficit è di 52 milioni 629 mila euro. Io dico che quando vedremo le carte arriveremo ai miei 80 milioni di euro.